. Shelly, vero nome Peter McNish, era stato fondatore e leader del gruppo, che nel 2016 avevano celebrato il loro quarantesimo anniversario con un tour mondiale, e quattro concerti in Italia. Anche da solista, Keith Shelly aveva pubblicato diversi singoli, per un totale di sei album, di cui l'ultimo, Cinema Music and World Paper Sounds, era uscito due anni fa. Secondo quanto riportato da diverse fonti britanniche, Shelly sarebbe morto a causa di un infarto, mentre si trovava nella sua casa in Estonia, dove viveva ormai da tempo.